Pace bene a tutti e bentornati con il nostro appuntamento di ogni giorno con il Santo. E' proprio oggi che è 23 novembre noi ricordiamo San Clemente Papa. Ascoltiamo. Le fonti più antiche sulla vita di San Clemente, che fu Papa dopo Pietro, Lino e Cleto, sono gli Atti, scritti nel IV secolo. Clemente nacque nel I secolo nel quartiere romano di Montecelio. Si sa con certezza che fu vescovo di Roma sotto gli imperatori Galba e Vespasiano. A nome degli anziani della sua chiesa intervenne per riportare la concordia e l'unità nella chiesa di Corinto, lacerata da divisioni circa l'autorità all'interno della comunità cristiana. In una sua lettera, con tono umile ma colmo di sapienza, Clemente ricorda ai cristiani di Corinto che la via dell'unità e della pace, tracciata da Cristo, passa per quella dell'umiliazione e della sottomissione per amore, secondo anche l'insegnamento di Paolo, che costituiva un legame fra i cristiani di Roma e quelli di Corinto. Secondo la tradizione, Clemente fu mandato in esilio in Crimea e qui costretto a lavorare in miniera. Fece miracoli e ottenne molte conversioni con la sua predicazione. San Clemente è noto soprattutto per la sua lettera ai Corinzi. Voi mi direte, ma non era Paolo quello che ha scritto ai Corinzi? Non solo. C'è stato anche questo fratello, questo pontefice, che ha indirizzato uno scritto particolare a questa comunità e cercava di invitarli a riuscire a rimanere tutti insieme, a compiere questa lotta per riuscire a superare anche le differenze sociali e anche le differenze che contraddistinguevano l'un l'altro. A volte facevano scaturire invidie queste differenze, un po' come succede nella nostra società. E lui scrive, i grandi non possono restare senza i piccoli, né i piccoli senza i grandi. Tutti sono frammisti. Di qui il vantaggio reciproco, vedete che bello, il vantaggio è proprio quello di essere diversi. Prendiamo ad esempio il nostro corpo. La testa senza i piedi non è nulla, come pure i piedi senza la testa. Anche le membra più piccole del nostro corpo sono necessarie e utili a tutto il corpo. Anzi, tutte si accordano e si sottomettono al medesimo fine, perché tutto il corpo sia saldo. Si assicuri perciò la salvezza di tutto il nostro corpo in Cristo Gesù e ciascuno sia soggetto al suo prossimo secondo il dono della grazia che gli è stata affidata. Chi è forte si prenda cura di chi è debole. Il debole rispetti il forte. Il ricco soccorre il povero. Il povero lodi Dio perché gli ha dato uno che viene a colmare la sua indigenza. Il sapiente mostri la sua sapienza non con le parole, ma con le opere buone. L'umile non renda testimonianza a se stesso, ma lasci che sia un altro a dargliela. Vedete quanta saggezza e quanta abilità ci vuole per riuscire a rimanere tutti insieme cercando di godere della differenza dell'altro, anche se magari lui è nella posizione di essere più forte di noi o più umile di noi. Cerchiamo tutti di completarci a vicenda, perché la bella notizia è questa, ognuno è speciale e ognuno ha delle cose molto particolari che solo egli ha e solo egli può donare. Quindi basta scoprirle senza invece cercare ciò che di buono hanno gli altri che pensiamo ci renda inferiori. Non è così. Ognuno di noi è speciale, ognuno di noi è importantissimo. E proprio in questa ricerca della propria originalità noi vogliamo invocare l'aiuto e l'intercessione di San Clemente. E gli diciamo, prega per noi.